Luglio e agosto da dimenticare per il turismo negli alberghi italiani. A tirare il bilancio di un'estate tristemente negativa è la Federalberghi, la federazione degli albergatori di Confcommercio. Per la prima volta e due mesi clou dell'anno, luglio e agosto, hanno rispettivamente chiuso in negativo con un meno 0,6% e un meno 0,2% di presenze alberghiere. Un dato drammatico che si riflette sul fronte occupazionale. Nei due mesi Federalberghi registra un calo dell'1,3%, frutto di un meno 2,9% di lavoratori a tempo indeterminato e di un meno 0,3% di lavoratori a tempo determinato. Sul versante dei volumi e alla contrazione dei prezzi si aggiungono le cancellazioni e le partenze anticipate per il maltempo, registrate sia nelle località marittime che in quelle montane, con un impatto sui fatturati delle imprese ricettive nel trimestre stimabile in un meno 5%.